Il mio cuore, vi adoro perché Napoli ha qualcosa di magia, qualcosa di splendido e quando l'editore di RTL mi ha chiesto Cristiano deve venire a Napoli io sono scappato subito, pensate che io stasera avevo una serata in Grecia, ad Atene ho detto che rimandiamo, per fortuna me hanno detto ok, la facciamo in agosto e non potevo mancare qui a Napoli! Grazie, allora ogni anno sarremo di gala delle canzoni bellissime, straordinarie ma ce n'è una che io, generalmente non canto mai le canzoni degli altri a meno che le siano delle cover, ma c'è questo brano che vi assicuro è una delle canzoni più belle, più belle di quest'anno voi dite ma che sorpresa sarà? questa veramente è una grandissima sorpresa ed è la prima volta che io la canto e la canto per Napoli